Si è aperto questa mattina negli spazi del Dipartimento di Storia e Metodi per la Conservazione dei Beni Culturali in Via degli Arani il convegno internazionale Apotheosis Becoming God Between Antiquity and the Middle Ages organizzato da Federico Maria Moccioli e Tommaso Gnoli, docenti rispettivamente di storia greca e di storia romana presso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell'Università di Bologna. Questo convegno rientra diciamo nelle nostre attività istituzionali, è una di quelle attività che tutti gli anni del resto il nostro Dipartimento che è il Dipartimento di Storia e Metodi per i Beni Culturali ha a Ravenna in questo specifico caso ci occupiamo di storia antica in uno dei punti più importanti per lo studio della trasmissione del potere da un imperatore all'altro e in genere per tutto il mondo antico perché una buona metà del convegno organizzato da me e dal collega Federico Maria Moccioli riguarderà anche il mondo greco. Un convegno che appunto, come diceva lei, ha un'importanza anche proprio per la città e per il Dismech stesso? Certamente perché naturalmente tutti sappiamo che Ravenna è stata anche capitale imperiale ha dei monumenti straordinari che riguardano specificamente l'apoteosi infatti il nostro logo diciamo di questo convegno è il celebre rilievo con l'apoteosi di Augusto che è conservato presso il Museo Nazionale di Ravenna ed è stato trovato nelle fondamenta del Mausoleo di Galla Placidia ed è uno dei pochissimi resti archeologici ravennati di età austerea. Professor Muccioli, l'importanza del tema dell'apoteosi scelto per questo convegno internazionale sia nell'antichità e fino al Medioevo? Certo, il tema del culto della personalità nell'antichità è un tema che riguarda sia gli specialisti del mondo antico sia anche gli specialisti del mondo medievale e può avere anche una lettura contemporanea proprio in un periodo in cui parliamo di teologia politica, religione della politica confrontarci con le varie forme di divinizazione, di culto dei sovrani, di personalità rilevanti nel passato può essere anche un'utile lezione per il presente. In che senso? Andando più nello specifico? Nel senso vedere come personalità carismatiche sia nel mondo greco sia nel mondo romano riescono ad attirare attorno a sé un consenso organizzato e strutturarlo attraverso forme di obbedienza e rituali che sono sì religiosi ma che hanno anche una valenza politica in senso lato. Per Ravenna Web TV sarà Pietracci.